allora ecco la macchina per lavare il vinile è semplice, uno scatolone, qui ci sono due interruttori uno per far girare il piatto e uno per aspirare poi c'è una spazzolina e poi c'è il liquido per pulire il disco allora come si fa? si apre il coperchio trasparente, qui c'è un piano di sughero allora adesso prendiamo un disco prendiamo questo di Bruce lo mettiamo sul piatto dopo si vede qua lo mettiamo sul piatto qua allora questo è un disco molto sporco quindi l'ho messo qua sul piatto ci avvitiamo il blocco in mezzo e poi si fa partire il motore che gira poi si mette un po' di liquido qui ce lo mettiamo un po' abbondante perché è lercio e poi con la spazzolina prima si appoggia piano piano in modo che il liquido si sparga uniformemente e poi si tiene un po' premuto e si tiene premuto abbastanza a lungo perché deve avere il tempo di sciogliere tutta la sporcizia e di diluirla nel liquido poi si mette il braccetto questo qui sopra e si preme l'interruttore dell'aspirazione mi si fanno fare due giri ed ecco qua il disco come nuovo ecco qua